Vogliono costringerci a lasciare i nostri campi per favorire l'importazione dai paesi ex-europei, dandoci un contentino. Noi non ci siamo e continueremo a protestare contro questa scelerata politica europea. Così il portavoce degli agricoltori di Brindisi e Provincia ha i microfoni di Antenna Sud. Il problema è in tutta Europa. Ci sono scioperi in Olanda, in Grecia, in Spagna, in Portogallo, in Francia, in Germania. Il problema è questo appunto, l'accelerata politica europea. Ci sono normative che in Italia non esistono. In realtà il Ministero della Salute in Italia è uno degli più intransigenti in Europa. Futuro incerto, ricatute occupazionali negative. Non solo. Continueremo a protestare d'oltranza perché, oltre alla politica nazionale ed europea, ci sentiamo penalizzati anche dalle regioni e continuano gli agricoltori. La manifestazione di giovedì 8 febbraio a Brindisi ha visto una massiccia partecipazione di agricoltori che, dopo la marcia sul capoluogo, sono giunti in via Spalato, dove ad attenderli c'erano i rappresentanti della comunità africana molto attivi nel comparto agricolo brindisino. Anche loro spaventati per tutto quanto accade. La protesta proseguirà d'oltranza. C'è un'altra domanda a questi signori che sono al potere. Se noi ci fermiamo, il comparto agricolo si ferma, quante persone rimarranno senza lavoro? Giù a Largo Spalato c'è anche la presenza della comunità africana. Sarebbero ragazzi che lavorano per conto nostro delle aziende qui a Brindisi, ma anche in provincia, che anche loro sono preoccupati e vogliono dimostrare perché giustamente perderebbero le possibilità di lavorare e quindi di sussistenza. Grazie a tutti.